salara nooo manzi ma vogliamo riscattare no no fa il culo ok io ho un'icola non ci sono ok scusa solo per perdere il tiro tira dritto vai vado anch'io va insomma e quando a meno che morite ditemelo che non spero di qualche tempo di soppressione abbiamo deciso 2 uno sta tirando sull'ancora e mi ha ucciso non è affondato olè guardate che sarà andata a cazzo dura neanche un buco ce l'hanno fatta ci hanno colpito davanti l'albero e basta che mi spara davvero di merda che mi fa quindi ripeto che mi spara davvero di merda io che è la cosa eh scusa poi non volevo vabbè io ho sparato molto meglio di prima adesso ho messo ne ho fatto fuori uno ai cannoni invece di crepare quattro volte di fila ho tirato giù almeno un albero credo e invece cattivissimo ho detto ok loro vogliono stare a lunga distanza ma li incalzo subito come va va si 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 sono trovati spesatissimi perchè hanno perso il tiro e li hanno lasciati beh ha un po' di bandiere che si è scritto sopra io ho uscito però vabbè dai ok ma non ho tutto nemmeno che ho detto in mano mano si non dovevi andare a letto mezz'ora fa di più di più un'ora meno questi si chiamano i scioliscati content abbiamo una strema rossa di fronte a noi si stanno si sbaraccia la gente un albero dietro un albero uno del toro da davanti l'ho tenuto l'ho tenuto sono morto ok l'ho tenuto l'albero riportiamo il tiro non mi fai lasciare più anche noi mi sa si però non abbiamo più sotto non ci sono dovevo andare quando l'ho tenuto ma vai fu che noi si pariamo ok ok ah mi hanno shittato giusto facciamo un po' di soppressione si 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 guarda saluto io sto cercando di soppressarle un po' ok 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 do un po' di timone a sinistra e subito mi hanno shittato mi hanno shittato mi hanno shittato sirena sale sale si guarda l'esca si sale mi ha ucciso merda bella noi abbiamo un po' tanti molti noi abbiamo un po' tanti molti e poi siamo un po' più stabili ok però potremmo andare da ora ora cercare dall'alto io devo scendere io sto cercando di colpire le scale di un po' più stabile come si 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 e ti sai ci no vabbè dai prendiamo il loro loot beh se volete potete tenerlo vivo per un quarto d'ora eh poi io guardo scena proprio evidente no è bella questa però mi è piaciuta siamo di fianco al davanti posto diceva però mi è piaciuta questa abbiamo anche la scelta con cannone tra l'altro è bella gialla di più o di più? no 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 the longsword no non abbiamo anика un morto adesso Dicono che stai facendo le finte Cazzo cichitoni No Non Stai ragazzi molto lanciato Non mi sa Sì, non lo so Sì 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 Ne ha ucciso uno Da tutto loro Eh Non lo so Non lo so Ne ha ucciso uno Ne hanno ucciso Non solo uno vivo al momento Sì 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 Vai, sparo, Fede, per favore. Preparo il boot per te. Aspetta, è vero. Ok, vabbè, non c'è stato giusto. Immaginavo che sarebbe finita così, però adesso no, tanto tempo vincere. E' inutile da prendere gli schi inutili, riparo il boot per te. Dai, facciamo un bel gg. Gg, guys. Fortività quando stravigli, che dicevo. Gg, yes. Oh. Questa era la gente che volevamo, spero che continuavano stasera. I got kicked the jump.